Questa mattina, alle prime luci dell'alba, a Tauria Nova Cinque Frondi, i carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria, nell'ambito dell'operazione denominata Spes contra Spem, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal tribunale del capoluogo sezione GIP nei confronti di undici persone, ritenute responsabili in particolare a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, estorsione, detenzione illegale di armi anche da guerra, esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sostituzione di persona, tutti aggravati dal metodo e le finalità mafiose, avendo preso parte o comunque favorito la Ndrangheta nelle sue articolazioni territoriali operanti in Tauria Nova, denominate Cosca Zagari Fazzalari e Cosca Avignone Termina così il nostro momento di informazione, chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive